buongiorno a tutti grande novità acer iconia w3 nuovo tablet 8 pollici windows 8 parliamo di una versione standard del sistema operativo un prodotto quindi che permette non solo di lavorare con le app ma anche con i programmi non solo in questa versione dato anche con office omen student quindi tutta quanta la produttività di cui ho bisogno parliamo di un tablet 8 pollici grande durata della batteria fino a otto ore il processore è un processore atom di terza generazione come possiamo vedere anche dell'adesivo nella parte vecchia del prodotto quindi una potenza di calcolo sufficiente sia per la fruizione che per la creazione di contenuti abbiamo uno schermo con una buona luminosità molto reattivo molto fluido nella parte back vediamo una webcam 2 megapixel andiamo a vedere poi quali sono le connettività laterali come si adatta troviamo qui la parte delle casse il collegamento chiaramente per le cuffie un uscita hdmi una usb il tasto di accensione il volume e le sd card quindi un prodotto molto molto completo un prezzo decisamente competitivo parliamo di un prodotto ripeto windows 8 con office omen student che si posiziona a 329 euro al pubblico la disponibilità del prodotto è immediata le prime unità sono state consegnate questa settimana sui punti vendita del retail quindi non resta che andare a vederlo toccarlo con mano provarlo e comprarlo perché è veramente una novità molto interessante oltre alla versione al lancio a 329 euro vedremo poi le versioni maggiormente carrozzate in termini di memoria fisica quindi nella versione a 329 euro abbiamo un 32 giga nella versione a 379 avremo un 64 giga e poi nel prossimo futuro ci sarà anche la possibilità di avere oltre alla connettività wifi anche una connettività 3g ultima cosa importante esiste come accessorio una tastiera che permette di andare a inserire il nostro tablet per un facile trasporto e una tastiera full size con tasti standard bluetooth per quanto riguarda la trasportabilità ripetiamo otto ore la durata della batteria è un peso molto interessante perché siamo nell'ordine dei 500 grammi quindi per un prodotto di questo tipo un peso sicuramente contenuto che permette di avere un prodotto mobile in tutto per tutto